Dopo una riunione durata fino a tarda notte, il centro-sinistra ha il suo candidato a sindaco di Agrigento. Il nome proposto e accettato dalla coalizione delle primarie è quello del deputato Angelo Capodicasa. È passata quindi la linea del segretario regionale del PD, Fausto Raciti, che nei giorni scorsi aveva scaricato Silvio Alessi, il vincitore delle primarie vicino a Forza Italia. Agrigentino, Capodicasa, è uno dei big del PD siciliano, da decenni in prima linea col PCI e poi con PDS, e DS, fino all'approdo nel PD. È stato il primo presidente della regione siciliana di sinistra. L'imprenditore scaricato, invece, non rappresenta il centro-sinistra, hanno detto i democratici. Nonostante questo, però, la coalizione rimane identica, quella stessa che ha intrapreso un percorso politico con i democratici di Agrigento. Il PD siciliano, inoltre, è disposto anche a mettere in campo una proposta autorevole per superare la complessa e confusa situazione da cui il PD vuole immediatamente uscire. Per questo, giovedì 2 aprile, Raciti è atteso nella città dei Templi per partecipare alla riunione dei direttivi dei circoli di Agrigento per condividere il percorso che si intende portare avanti. Intanto, l'ipotesi al momento più accreditata, sembra essere quella di chiedere ad Alessi di fare un passo indietro. Almeno questo è quello che emergerebbe dalle dichiarazioni del segretario provinciale del PD, Peppe Zambito, che all'indomani del vertice palermitano mette le mani avanti. Con Silvio Alessi dobbiamo ancora parlare, ha detto Zambito. Ci vedremo nei prossimi giorni assieme ai partiti e ai movimenti che fanno parte della coalizione Agrigento 2020. Nessuna possibilità, però, viene esclusa. Pensare che adesso Alessi faccia un passo indietro, infatti, è sicuramente difficile e il PD potrebbe uscirne con le ossa rotte da questa operazione. Anche perché il partito e i candidati alla vigilia delle primarie hanno sottoscritto un codice etico che impegna i singoli a sostenere il vincitore delle primarie alle elezioni amministrative di fine maggio.